È stato presentato il libro dal titolo dal CERN al bosone di Higgs. Nel corso dell'incontro mette una sera la grande fisica all'Aquila, che ha avuto come cornice ed eccezione l'auditorium del GSSI dell'Aquila. Tanta la partecipazione all'incontro anche da parte di semplici appassionati della materia, segno che la scienza unisce non solo paesi ma anche elementi più diverse. Il bosone di Higgs insieme alle onde gravitazionali sono le due scoperte maggiori che la fisica ha fatto negli ultimi anni. Ed è entrambi che girano oggi. Il bosone di Higgs perché è il trattato in questo libro di James Gillis, che è un fisico che ha partecipato a queste ricerche e che è anche stato capo della comunicazione del CERN. Quindi ha saputo, secondo me, scrivere un libro che riesce a trasmettere un po' non solo l'importanza di questa particella che è stata chiamata impropriamente la particella di Dio, perché è una particella tramite la quale tutte le altre particelle acquistano la massa, questa proprietà fondamentale. Non è facile spiegarlo. Le onde gravitazionali si spiegano meglio, diciamo, il suono, le vibrazioni dello spazio-tempo. Invece il bosone di Higgs è un po' più complesso e lui riesce, in questo libro, secondo me, a trasmettere un po' il senso di perché questa particella è importante. Inoltre, dietro la scoperta sia del bosone di Higgs come anche delle onde gravitazionali, c'è l'attività di migliaia di fisici, migliaia di scienziati, di tecnici, di ingegneri, di tutte le nazionalità, che collaborano e riescono a raggiungere il risultato fantastico tramite proprio, diciamo, l'insieme delle diversità. Ecco, questa è una cosa notevole, bisogna dire, che nel campo scientifico è sempre stata l'avanguardia in questo. Una volta i russi e gli americani avevano in atto una guerra fredda, ma riuscivano a collaborare nei progetti scientifici. Oggi l'autorità palestinese e Israele sono paesi in conflitto, diciamo, che ci sono sistemi in conflitto, ma riescono a collaborare nell'acceleratore Sesame di luce di sincrotrone, che è un progetto che si fa in Giordania. Cioè il tavolo della scienza è sempre riuscito a far sedere intorno anche paesi che avevano dei conflitti anche aperti. E quindi solo per questo, o anche per questo, la scienza ha un ruolo così importante, così importante anche per la pace.